Vi devo dire una cosa ragazzi In questa modalità storia di Mortal Kombat 9, visto che siamo nel nono capitolo Dobbiamo fare la terza battaglia Siamo in un nuovo luogo Ed è qui che Kitana affronterà la sua terribile copia Milena Però è sua sorella Ricordatevelo, Milena è la sorella di Kitana È qui che si affrontano fra sorelle Ma vediamo chi è la più forte Chi è la sorella più forte Kitana o Milena? Bisogna stare attenti perché Milena ha i denti da Tarkatan E poi lancia i Sai Forza Kitana, concentrati Battilo questo essere mostruoso Lo so Dai Titana vinci, tu devi farcela contro tua sorella, battila, eliminala. E vai, è fatta, è finita, Titana ha vinto contro Milena. Io vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace, subito, immediatamente. Parola di Gabriel Host.